Siamo qua sulle cime dell'Alpago in vista del Monte Cavallo, della Pallantina con la sua parite nord, del Colombera e poi dietro dell'alto piano dell'Alpago, Bisentina e così via. E proprio qua, quasi in cima, qui, osserviamo queste rocce carbonatiche e i lichini particolari che ritroviamo, tutti più o meno sul grigio, chiaro, scuro. Quindi formano varie patine, alcune potrebbero essere scambiate per patine di ossidazione. Sono proprio i licheni che danno un po' il colore a queste rocce.